Un'avventura che non dirà, l'azzurro è fuori questa città, una storia magica, no va ancora, no va ancora. Oh, mamma mia, che giro aveva fatto Panico, Palo, mamma mia, andiamo al replay, mamma mia, che fucilata, Pali, il portiere c'era, però secondo me non c'è, per me sarebbe arrivato. Bello, sì, Zigoni, e andiamo, lo credito che lui risponde, 2-1, grazie Gianmarco, mio caccio sempre preferito sei, bravo, ma tu un bel gol, E' la regolare, oh, bello, 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 mi è piaciuto il gol, resta il fatto che non mi sta piacendo troppo, però comunque 2-1, buono, buono, bravo, Zigoni. 2-2. bravo cisco bravo cisco bravo bravo dai panico bravo cisco bravo cisco grande panico 2 a 3 e andiamo grandi ragazzi bravo peppe terza volta in vantaggio per il novara secondo gol in campionato per giuseppe panico si è fatta riprendere due volte ma che non ha mai mollato torna ancora una volta in vantaggio non vogliamo adesso non facciamoci raggiungere di nuovo per la terza volta non facciamoci raggiungere di nuovo per la terza volta dai ma un po' di attenzione il piace sul cross dalla sinistra arriva il gol sul secondo piax pedone ancora ci ha pareggiato tre volte tre volte abbiamo inventato e tre volte ci facciamo pareggiare vai no mi sembrava un tiro e invece ha preso un effetto pazzesco mamma mia bella parata bel tiro di natalucy ma non sembrava un bel tiro proprio non è tre volte tutti a casa tre tre ragazzi grazie a tutti per essere stati qui grazie a tutti e ci vediamo qui su Twitch domenica ciao ragazzi ciao ciao